Ruberò pochissimo tempo, ho preparato proprio due slide in croce, anch'io ringrazio gli organizzatori, in particolare Dino Zardi per avermi invitato a parlare qua. Dico una cosa che non hanno detto gli altri, questo che sta avvenendo in questi giorni è un evento storico della meteorologia, perché non è mai successo che tutte le realtà che appartengono alla meteorologia siano state convocate in uno stesso posto. C'era la riunione delle ARPAV, c'era la riunione dei radar meteorologi, ma non è mai successa una roba del genere. Quindi quando tornate a casa stasera potrete dire io c'ero, questa è una cosa che ci tenevo ai soliti complimenti che dicono gli altri. Allora, velocemente, siamo nati nel 2010, siamo un gruppo di meteorologi operativi, la lista si chiama previsionedeltempo.it e dà la matrice da dove veniamo. Perché siamo nati? Perché i previsioni del tempo sono quelli più esposti mediaticamente. Hai sbagliato la previsione, finisci in croce, qua non è piovuto, guarda i colleghi della Liguria che cosa stanno passando in questo periodo con i magistrati, eccetera. In quattro anni abbiamo raggiunto 90 membri per essere socio, non è socio perché non è un'associazione, di associazione le lascio a chi le ha create e io non riesco a gestire un'associazione. È un gruppo il mio, è una mailing list dove c'è un indirizzo postino, tu quando scrivi l'indirizzo postino raggiunge automaticamente gli altri 90 membri. Per essere membro di questa mailing list devi essere un meteorologo che ha fatto almeno un anno di lavoro nel pubblico. Uno mi diceva, ma io sono privato, perché no? Perché io non ho ancora capito il criterio per discernere tra il privato buono e il privato cattivo. Quindi per adesso mi sono fermato al pubblico. L'iscrizione per ora è gratuita, io sono il portavoce, abbiamo fatto un regolamento, c'è un consiglio dei collaboratori che vota e prende le decisioni. Allora, per che cosa ci battiamo? Tre grosse cose, le avete sentite anche nella plenaria. Vogliamo un servizio meteorologico nazionale civile, che ce la presenti in Europa, un servizio meteorologico nazionale forte. riaprire una scuola di meteorologia in Italia, perché manca a livello accademico, e la certificazione della professione meteorologo. Questi qua sono i tre cavalli di battaglia e bisogna portarli a casa. Avete visto come stanno andando? Sulla certificazione della professione siamo quasi arrivati, addirittura ci sono due percorsi che stanno convergendo. Sulla scuola lì siamo messi abbastanza male, però se parte la certificazione, come ho detto ieri sera, poi automaticamente si crea il mercato e quindi vengono sulle scuole. Per il servizio meteorologico nazionale, io ancora ieri sera ci ho messo la faccia con De Bernardinis, con Paola Pagliara, mi hanno detto sei mesi. Però io, se avete visto la mia relazione, io non ci credo più. Cioè, secondo me c'è un tappo che blocca questa cosa qua, però non ho ancora riuscito a capire qual è il tappo che blocca. Allora, cosa abbiamo fatto? Allora, il 19 ottobre del 2003 all'Aquila abbiamo fatto il manifesto dei meteorologi italiani. Sette regole, è la prima uscita di un codice deontologico, non esiste niente prima di questa cosa qua, ok? Firmato da 55 professionisti, chi si iscrive automaticamente lo sottoscrive, quindi adesso sono 90 persone che si identificano con questa cosa. Il manifesto, non ve lo sto a leggere, sta nella mia associazione. Sette regole da rispettare, è la base di un codice deontologico. Primo censimento ai meteorologi italiani, mi sono messo e sono andato a tampinare e vedere che percorso di studio avevano fatto, quanti anni avevano fatto di precariato, quanti tempo indeterminato, che lauree avevano, dove sono finiti, quanti articoli sono riusciti a pubblicare. Abbiamo fatto questo studio e è sempre sul sito. E poi abbiamo iniziato a fare alcuni comunicati in stampa. Il primo a favore del servizio meteorologico nazionale distribuito, il secondo per prepararsi la stagione delle piogge, che infatti poi arrivate, abbiamo già avuto i primi morti. Che cosa abbiamo intenzione di fare in futuro? Quattro cose. Allora, sto raccogliendo l'elenco dei professionisti della meteorologia. Qua potete partecipare tutti. C'è il modulo, compilate la casella secondo le vostre professionalità e viene inserito. Questo voglio dare una dimensione dei professionisti meteorologi in Italia. Poi ho fatto la fotografia della meteorologia italiana, ho voluto fare uno screenshot di quello che c'è adesso. Sono andato a chiedere tutti un po' in giro ed è quel poster che si trova sempre nel mio stand con tutti i palloni divisi di com'è complessa la meteorologia italiana in questo momento. Perché non avendo una testa che comandava la cosa è andata ai mille rivoli. Cosa faremo in futuro? Il decalogo delle previsioni meteorologiche. Vorremmo fare e condividere tra tutti dieci regole di come va messo giù un bollettino. Chi produce un bollettino che ti dice cosa fa sul tuo giardino fra dieci giorni, no. Quella roba lì è sbagliata. Non è possibile. In questo momento non ci possiamo arrivare. Quindi delle regole di come si fa la previsione meteorologica. E poi una categoria si distingue per un linguaggio. Tu vai dagli avvocati e parlano il legalese. Tu vai dal commercialista e ti parla come... Anche noi abbiamo il nostro linguaggio. E bisogna definire un... Io non posso andare dall'America Meteorologica Society per trovare un glossario. Ci vuole un nostro glossario. Venti deboli. Cosa vuol dire? Definiamolo una volta per tutte. Precipitazioni moderate. Cosa vuol dire? Vanno definite queste cose qua e vanno condivise. E chi viene fuori con altre robe? No. Deve stare dentro lo squero, come dicono a Venezia. Cioè, basta, bombe d'acqua... L'altro giorno ho sentito... L'Italia non riesce a scrollarsi di dosso questa perturbazione. Queste cose qua le scrivi sul romanzo, hai capito? Non le scrivi su un bollettino meteo. Ci dobbiamo distinguere per un linguaggio, ok? Quando ti sentono parlare, dicono, caspita, quello lì è un avvocato, caspita, quello lì è un medico, caspita, quello lì è un meteorologo. Perché? Usa quei termini. Ho finito. Informazioni sono lì. Manifesto, regolamento, moduli iscrizioni, elenco e comunicati stampa sul sito.